Ci occupiamo di calcio come tutti i lunedì, vediamo insieme i risultati della giornata calcistica di ieri. In promozione spicca il 3-1 ottenuto da una straripante valtarese che dopo essere passati in svantaggio con l'Arcetana ha saputo raddrizzare il risultato con Capitan Bozzia che con i suoi 43 anni si è permesso, oltre che di tenere in piedi la difesa anche di dare il rà alla rimonta dei suoi. Il suo gol è arrivato all'inizio del secondo tempo per merito di uno schema su punizione che lo ha liberato davanti al portiere avversario. Già domenica scorsa nel vittorioso match con la Bianca Azzurra si erano visti due bellissimi schemi che se non avevano prodotto risultati erano però riusciti a far intendere che questa può essere un'ottima arma per scardinare le difese avversarie. Primo tempo tutto a favore degli ospiti che oltre a essere passati in vantaggio hanno impegnato la retroguardia dei Valdigiani in più di un'occasione. Il gol del vantaggio è arrivato con un tiro dai 25 metri che per colpa del terreno pesante ha un po' sorpreso il comunque ottimo vicini. Nella seconda frazione di gioco un'altra aria soffiata sul campo di gioco perché dopo il gol del pareggio di Bozzia l'Arcetana si è sciolta come neve al sole sotto i colpi di un indemaniato Ivan Martini. L'ex giocatore della Primavera del Parma e del Fidenza ha prima offerto una palla d'oro al bravo Manuel Squeri per il suo gol e poi non contento si è procurato il rigore che trasformato dal cecchino Moretti ha chiuso la partita sul 3-1. La Valtarese deve ancora registrare il centrocampo che come domenica scorsa ha sofferto più del dovuto la tecnica degli avversari mentre sono andati molto bene gli altri reparti soprattutto l'attacco che ha una banda di ragazzini terribili. Dispiace che il pubblico non comprenda che se uno di questi ragazzini sbaglia qualche palla non è costruttivo rumoreggiare perché ragazzi di 19-20 anni debbono crescere e per questo vanno sempre solo aiutati. Cobra Calchini-Docet Questa la cronaca a cui c'è da aggiungere che la Valtarese dopo due partite ha sei punti, otto gol fatti e uno solo subito. Numeri da far venire i brividi e che fanno della squadra di Mister Borzoni la favorita nell'incontro che si terrà a Medesano mercoledì sera. Il recupero della seconda giornata di campionato ci regalerà un derby della Valtaro dai mille significati poiché entrambe le squadre giocheranno per vincere. La Valtarese ha il dente avvelenato per la partita persa a tavolino in Coppa e in più deve mettere Fieno in cascina perché il calendario le riserva due temibili trasferte. La Medesanese, reduce da un ottimo pareggio per 1-1 sul campo del Montecchio, ha da risollevarsi anche nel morale e soprattutto nel gioco che nonostante quanto dica il risultato anche in terra reggiana è parso la titare. Nel primo tempo la squadra di Mister Ghillani ha rischiato tantissimo ed è stata salvata dall'imprecisione degli attaccanti del Montecchio che sono riusciti a fare solo un gol. Troppo poco per il gioco svolto e come spesso avviene nel calcio i reggiani sono stati puniti nel secondo tempo. Un secondo tempo che ha messo in mostra la buona condizione fisica della Medesanese che ha saputo soperire il minor tasso tecnico con la tanta corsa che è il marchio di fabbrica delle squadre di Ghillani. Il gol del pareggio è però avvenuto su un grave errore del centrale defensivo del Montecchio che ha commesso un fallo in area del tutto inutile che ha portato al rigore trasformato da Terranova. L'ex giocatore del Parma e del Mantua si è distinto per tecnica e con Pompini è stato tra i migliori in campo tanto che a fine partita lo stesso Terranova ha sfiorato il vantaggio con un gran tiro dalla distanza che ha fatto venire i brividi al numeroso pubblico reggiano. Un pubblico quello reggiano che non ha ben capito la sostituzione di Pompini che fino ad allora era stato come detto il migliore dei suoi. Sarà stato anche un caso ma dal momento della sua sostituzione la partita è cambiata in peggio per i reggiani che hanno buttato al vento una vittoria che alla fine del primo tempo nessuno poteva mettere in dubbio. Il Bedonia torna dalla trasferta contro il corte calcio con una sconfitta per 2-0 che per quello che si è visto penalizza oltremodo i ragazzi di Mister Mancini. Dopo l'iniziale svantaggio i bedoniesi hanno fatto la partita e sbagliato più volte il pareggio. Il gol del 2-0 dei padroni di casa arriva alla fine del secondo tempo e chiude le residue speranze del Bedonia. In Carignano Fornovo si è visto un po' di tutto e il pareggio per 1-1 ha contento entrambe le squadre. Il Fornovo ha messo in mostra due giocatori di carattura superiore rispetto alla categoria come Rizzolini e Bottarelli. Il portiere ex Valtarese ha salvato più volte i suoi dalla capitolazione e poi il centravanti li ha portati in vantaggio a 20 minuti dalla fine. Il caso ha voluto che il gol del pareggio del Carignano sia arrivato per merito proprio di Bottarelli che ha deviato di spalla un calcio di punizione che ormai sembrava nelle braccia dell'ottimo Rizzolini. In seconda categoria fanno notizia le meritate vittorie del Bardi, del Tizane e dello Scandinberg che hanno ribaltato quelli che erano i pronostici della vigilia. Il Bardi ha espugnato il campo dell'audace con un 2-1 che non dice la verità per quello che si è visto in campo. La squadra di mister Fabrizio Bianchi poteva chiuderla in goleada e solo l'imprecisione degli attaccanti ha fatto sì che il risultato non assumesse proporzioni ben più evidenti. I gol di Marenghi, ex juniores della Valtarese e di Max Losa hanno comunque chiuso la partita ben prima che l'audace la riaprisse con il suo gol che è arrivato solo allo scadere. Una brutta tegola per la squadra parmigiana che quest'anno è stata costruita per il salto di categoria. Sarà senz'altro per questo che a fine gara mister Luque Stasi ha tenuto negli spogliattoi una reprimenda degna di nota ma si è solo all'inizio e il tempo per rimediare c'è tutto. Lo Scandinberg si mangia letteralmente in un sol boccone i resti del compiano strapazzandolo con un perentorio 4-0. Si può parlare di resti del compiano perché le assenze di Besani, Matteo Mariani e di Valentini hanno inciso molto nell'economia del gioco della squadra di mister Chiolerio. Lo Scandinberg invece ha giocato la partita perfetta e il risultato lo ha premiato. Il compiano è di solito squadra tosta e nonostante la forza dimostrata dagli albanesi non può essere quello visto sul campo sintetico dello Stuart. Il Tizzano ha espugnato il campo di Sivizzano con un perentorio 2-0 che non lascia attenuanti agli uomini di Sandro Ferrari che alla vigilia erano nettamente favoriti. Si sapeva che la squadra della Valparma si era rinforzata ma che potesse passare con tanta facilità sul campo del Sivizzano nessuno poteva immaginarlo. Come da previsione la corazzata Solignano travolge in trasferta il malcapitato Ghiare che si deve inchinare alla maggior forza degli uomini di mister Tino Setti. Una doppietta di Bertorelli che per fortuna era data al 50% della condizione e un gol di Bertucci hanno chiuso la pratica Ghiare. Da notare che alla corazzata Solignano mancava un cannone del calibro di Caputo giocatore che farebbe la fortuna di molte squadre di promozione. Il felino pela il classico gatto vivo contro un buon Borgotaro che seppur privi in attacco di uomini come Dauti e Leonardi riesce a passare in vantaggio con Ruggeri e a sbagliare in almeno un paio di occasioni il gol del doppio vantaggio con Marchionna. Gol sbagliato e gol subito ma la fortuna non finisce con il pareggio del felino perché sull'1-1 gli uomini di Dodi sbagliano con Molinari anche un rigore e poi prendono un palo clamoroso. A dieci minuti dal termine il gol dei padroni di casa che lascia con la marimbocca i valligiani che avranno di che ragionare su questa sconfitta. In terza categoria andava di scena il derby varanese Folgore Fornovo che è terminato con la vittoria dei ragazzi di Dattaro per 1-0 con un gol del marocchino Karim. La varanese ha meritato di vincere perché ha creato e sbagliato con Toscani almeno un altro paio di nitide occasioni da gol mentre la Folgore è andata vicina al pareggio solo in un'occasione che è strata neutralizzata con una gran parata del bravo Tanzi. La Folgore di mister Maini ha messo in mostra buone qualità ed è parsa squadra ben equilibrata ma la differenza tecnica in attacco con Maccini e compagni si è vista tutta. Vittoria di misura del Valgotra che fatica più del previsto a regolare in trasferta un buon Vico Fertile. La notizia è quella che il gol che ha portato i tre punti è stato segnato da Bassolino e non da Devoti che per una volta è rimasto all'asciutto. Il Felegara non convince e perde in casa con una buona Astra che dimostra una maggior predisposizione al gioco di squadra. I parmigiani hanno condotto la gara fin dall'inizio con un Minari che ha fatto il bello e il cattivo tempo in ogni parte del campo. Rimasti in dieci al sessantesimo, l'Astra non ha mollato di un centimetro e si è portata meritatamente in vantaggio. Solo a questo punto l'orgoglio felegarese è venuto fuori ma ha prodotto solo un tiro verso la porta dei parmigiani con De Pietri. Troppo poco per meritare di più anche se vanno elencate nella mentelle dei padroni di casa che reputano in fuorigioco il gol degli ospiti e lamentano anche la mancata concessione di un calcio di rigore sullo 0-0. E siamo al meteo. Domani martedì 20 settembre nuvolosità variabile con ampie schiarite in mattinata sulle province centro-occidentali. Possibili brevi precipitazioni a carattere di rovescio in mattinata e in esaurimento nel pomeriggio. Le temperature minime in flessione intorno ai 23 gradi le massime in lievi aumento, valori tra 21 e 25 gradi infine i 20 saranno deboli variabili. Questa sera tra poco, subito dopo il telegiornale alle 20.45 il programma musicale C'è musica nell'aria. Segue alle 21.30 lo speciale Ikeravai in concerto il concerto che hanno tenuto a Bedogna e poi a seguire la replica del nostro telegiornale. È tutto, grazie per averci seguito vi auguro una buona serata domani. A presto! Musica Autore dei sovrapposti